Evitare la fuga dei giovani dal sud è questo l'obiettivo che si prefigge il progetto Ali e Radici del Rotary Nocera Inferiore Apud Montem e che si rivolge ai diplomati dai 18 ai 25 anni. È stata un'idea che abbiamo preso da un pensiero del Dalai Lama, il quale sosteneva di dare le radici, dare le ali per volare ai giovani ovviamente le radici per tornare sul territorio e per tornare sul territorio è necessario che questi giovani abbiano dei motivi validi. Penso che sia veramente un abbinamento perfetto Ali e Radici perché io ritengo che tutta la nuova gioventù dovrebbe comunque volare c'è nel senso di andare in altre città, in altri paesi per imparare, imparare cultura, imparare anche come vivono gli altri, imparare a farsi un bagaglio di esperienze però poi ritornare perché noi abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno di nuove eleve, abbiamo bisogno di persone che ci aiutano a portare avanti le aziende. Cioè volare sì, però ritornate. Tanta gente pensa che noi siamo oltre che distanti anche un'entità parte, cioè che trattiamo di tante altre cose, che facciamo i pranzi inunziali quando ci vediamo, invece bisogna credere anche in...